Anche il mitico Adri, il nostro Adri, si si c'è c'è, abbiamo appena ferrato, vediamo se sta tirando fuori qualcosa anche lui Ce l'abbiamo gente, vediamo che tra poco entra lo shock, tutto indiretta gente, tutto indiretta, oggi promette bene, ce l'ha, ce l'ha, vediamo dov'è, è entrato lo shock, eccola lì ragazzi, eccola lì se non la perdiamo Eccola qua, grandi, grandi, il virus incolpisce, il virus, marmelada